Un cordiale saluto ai nostri telespettatori, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di cronaca, una rapina a mano armata che si è verificata ieri sera a Brindisi con tentata estorsione. Le vittime sono due giovanissimi che però hanno denunciato il fatto ai carabinieri responsabili sono stati individuati ed arrestati. Sentiamo. Hanno minacciato e rapinato due giovani motociclisti ai quali hanno tentato di estorcere altro denaro. Due arresti e una denuncia da parte dei carabinieri della compagnia di Brindisi. Ai domiciliari per porto abusivo di armi in concorso una 72enne e una 67enne, entrambe di Brindisi. I due sono stati denunciati a piede libero per rapina in concorso e tentata estorsione in concorso. Un 45enne invece è stato denunciato per ricettazione. Lunedì pomeriggio in Contrada Sbitri, la 72enne e il 67enne hanno bloccato in un terreno agricolo due giovani di 19 e 18 anni, entrambi di Brindisi, mentre facevano motocross. I due sono stati minacciati con una pistola da parte dei due uomini che, utilizzando anche il calcio dell'arma per colpire ripetutamente sul casco il 19enne, hanno rubato ai giovani il portafogli contenente soldi e documenti, minacciandoli che li avrebbero restituiti in cambio di 10.000 euro in contanti da consegnare ciascuno entrosera in quello stesso luogo. Le vittime allontanatesi però hanno raggiunto la compagnia dei carabinieri dove hanno sporto denuncia. Dopo una serie di ricerche i malintenzionati sono stati rintracciati e bloccati quando insieme al 45enne erano ad attesa nel luogo indicato ai ragazzi. All'esito delle perquisizioni personali è stata rinvenuta addosso al 72enne una banconota da 10 euro appartenente al 19enne e una pistola beretta provvista di caricatore con all'interno 10 colpi dello stesso calibro, legalmente detenuta ma portata abusivamente al seguito. Mentre nell'auto del 45enne è stato recuperato il maltolto appartenente alle due vittime. L'arma e le munizioni sono state sequestrate e i due uomini sono finiti ai domiciliari. Ancora un sequestro di scarpe false nel porto di Brindisi. Sentiamo Fabrizio Cagianiello. Migliaia di scarpe con marchio Converse contraffatto sono state sequestrate nel porto di Brindisi dai funzionali dell'agenzia Dogane assieme ai militari della Guardia di Finanza. Si tratta dell'ennesima operazione di questo stesso tipo su un auto articolato bulgaro sbarcato presso lo scalo portuale. Durante le operazioni di sbarco di mezzi e passeggeri in arrivo dalla Grecia è stato sottoposto a ispezione un carico destinato ad una società della provincia di Fermo. I periti della società Nike Italy, titolare per la protezione del marchio Converse, contattati dall'autorità doganale, hanno confermato che si trattava di griff false. Il carico è stato quindi sottoposto a sequestro per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi o contraffatti, con la contestuale denuncia in procura del rappresentante della società destinataria della merce. Covid-19 variante inglese è partito in Puglia. Lo screening su tutti i passeggeri che sono arrivati nella nostra regione negli ultimi 14 giorni, ovviamente provenienti dalla Gran Bretagna. Ce ne parla Daniela Manigrasso. Sono 1.215 i passeggeri che negli ultimi 14 giorni sono arrivati in Puglia con voli diretti dalla Gran Bretagna e che secondo le disposizioni nazionali devono comunicare il loro ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione della ASL sottoporsi a tampone. A comunicarlo è l'assessore regionale alla sanità Pierluigi Lopalco. Di questi 746 hanno fatto scala all'aeroporto di Bari e 469 all'aeroporto di Brindisi. Gli elenchi sono stati tempestivamente trasmesse ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL che hanno già iniziato a contattarli e convocarli per l'effettuazione del tampone. I tamponi effettuati ai cittadini rientrati dalla Gran Bretagna, che risulteranno positivi, saranno inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata per il sequenziamento al fine dell'identificazione della nuova variante. Si tratta di un'indagine complessa, spiega Lopalco, i cui risultati possono richiedere diversi giorni. Infatti, per quelle che sono le informazioni in nostro possesso, essere contagiati da questa variante non induce per il cittadino una patologia più aggressiva e non comporta scelte terapeutiche differenti dalla variante classica. Al momento, conclude l'assessore alla sanità, sono due casi positivi arrivati da Gran Bretagna nell'ultimi 14 giorni. Entrambi i tamponi sono stati trasmessi all'Istituto Zooprofilattico. E a proposito di vaccini Covid, ma non solo, perché prosegue anche la campagna antinfluenzale. Nel fine settimana i laboratori dell'Asla sono stati aperti, quindi arriva anche l'appello da parte dei medici di base e dei pediatri nel proseguire appunto la vaccinazione antinfluenzale. Sentiamo. Dopo l'apertura straordinaria degli ambulatori Asla della provincia di Brindisi, la vaccinazione antinfluenzale prosegue da medici e pediatri di famiglia fino al 31 gennaio 2021. Il segretario regionale della Federazione dei Medici di Famiglia, Donato Monopoli, sottolinea che, seppure c'è ancora tempo per vaccinarsi, è consigliabile farlo al più presto. Gli assistiti possono contattare i medici per concordare gli appuntamenti. Ci sono scorte sufficienti a sicura per chiunque ne faccia richiesta. Ricordiamoci che l'influenza fa morti così come il Covid ed è fondamentale che soprattutto le persone anziane e quelle ad alto rischio si proteggano con il vaccino. Un appello arriva anche dalla segretario provinciale della Federazione dei Medici Pediatri, Francesco Gianfredi. Si invitano i genitori a vaccinare i propri figli contro l'influenza, rivolgendosi ai pediatri di famiglia. È noto, infatti, come i bambini siano uno dei veicoli più importanti di trasmissione dell'influenza verso gli adulti e i soggetti fragili. Finalmente le dosi ci sono e sono ampiamente disponibili. Vaccinandosi si eviterà il diffondersi dell'influenza. Circa mille persone, invece, si sono vaccinate fra sabato e domenica negli ambulatori ASL della provincia. Nell'ambito dell'iniziativa promossa dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica abbiamo programmato un'apertura straordinaria degli ambulatori, spiega Stefano Termite, direttore del SISP, in occasione dell'arrivo delle 37.500 nuove dosi di vaccino antinfluenzale che si sono aggiunte alle prime 128.000 consegnate ad ottobre. Il risultato, conclude, è stato incoraggiante e potremmo ripetere questa iniziativa per sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione. Acqua e fogna nelle contrade del territorio di Brindisi. Un problema che sembra difficile da risolvere, che si trascina da diversi anni. Su questo argomento è intervenuto, o meglio è tornato, il consigliere regionale del Partito Democratico, Fabiano Amati. Sentiamo. Ha fondato il salvataggio delle case dove vivono mille persone senza acqua e fogna. Oggi ripresento la norma. Così il consigliere regionale Fabiano Amati, peraltro presidente della Commissione Bilancio e Programmazione, che esordisce in una nota, sono rammaricato. Il consiglio regionale ha soppresso la norma approvata in Commissione che sarebbe servita a salvare le case dei quartieri di Brindisi, Torre Rossa, Sant'Elie e Montenegro, già recuperate e sanate con un piano approvato definitivamente dalla Regione, nel giugno 2005, dalla giunta vendola su proposta dell'assessore Barbanente, dove risiedono circa mille persone e che senza questa norma in tanti non potrebbero allacciarsi alla rete idrica e fognaria. Quando l'ideologia orienta il merito e si ha qualche problema per le ragioni dei poveri, va a finire che si travolge le vite delle persone e la stessa ragione. Oggi ripresento la norma, affinché approdi rapidamente in Commissione per poi tornare in aula. Assicura Amati che prosegue. La norma consentiva all'amministrazione comunale di Brindisi di non esporsi ad un ridicolo paradosso, cioè dover applicare un piano di recupero approvato dalla Regione, ordinando la demolizione di piccoli ampliamenti, tutti nel volume massimo di 20%, per poi autorizzarne la ricostruzione ai sensi del piano casa, cioè la norma che consente l'ampliamento delle residenze nei limiti del 20% della volumetria totale, calcolata ai sensi della stessa legge che consentiva l'approvazione dei piani di recupero, cioè una cosa irragionevole a dir poco. A ciò si aggiunga, prosegue il Consigliere, che il motivo della soppressione è stato nella circostanza che la proposta violerebbe la legge regionale vigente, che è proprio il motivo per cui è stata presentata una norma regionale, cioè di parirango, perché se non ci fosse stato il contrasto con la normativa vigente, non ci sarebbe stato ovviamente alcun bisogno di dotarsi di una norma approvata dal Consiglio regionale. Faccio inoltre presente che a causa di questi mancati interventi si continua a compromettere l'ambiente di quel territorio perché senza canalizzazioni lo scarico fognario avviene in pozzi senza tenuta stagna e il prelievo dell'acqua non potabile è assicurato dalle acque sotterranee. Insomma, una combinazione di atti non aderenti alla cura dell'ambiente e del paesaggio. E ora parliamo dei successi della scuola. Si sono diplomati lo scorso anno con il massimo punteggio Cento e Lode e parliamo di 14 ex studenti della Carnaro Marconi Flacco Belluzzi e per questo motivo in mattinata è stata organizzata una cerimonia da parte della dirigente scolastico il professor Salvatore Amorella. Sentiamo. Nella biblioteca della sede centrale dell'Istituto Carnaro Marconi Flacco Belluzzi di Brindisi consegna del premio in denaro che il Miuro ogni anno attribuisce agli studenti che si sono diplomati con Cento e Lode. Nell'anno scolastico 2019-2020 l'Istituto ha licenziato 14 studenti con la massima votazione agli esami di Stato un numero particolarmente rilevante che costituisce motivo di orgoglio per lo stesso Istituto da anni impegnato a fornire agli studenti percorsi di qualità che consentono loro di inserirsi proficuamente e celermente nel mondo del lavoro in particolare agli studenti del corso nautico che seguono un percorso formativo secondo standard di qualità europei che rende abilitante il diploma in tutta Europa con la qualifica di allievo ufficiale di coperta o di macchine immediatamente spendibile. Ma anche nei settori aeronautico ed economico aziendale gli studenti del Carnaro Marconi Flacco Belluzzi hanno statisticamente dimostrato di poter trovare facilmente occupazione con il diploma e comunque di poter frequentare corsi universitari con una solida preparazione specie se diplomatisi quali eccellenze. È un momento importante per i nostri ragazzi non tanto perché prendono un premio che poi ha anche un valore economico abbastanza limitato ma per il fatto appunto che vogliamo sottolineare che le eccellenze sono un patrimonio della scuola italiana, non solo della nostra ovviamente in particolare della nostra perché ne abbiamo avuto quest'anno ben 14 che sono un numero rilevante di alunni nei vari indirizzi che noi abbiamo avuto fino all'anno scorso quindi costruzione, ambiente e territorio gli ex geometri il SIA, cioè gli ex ragionieri programmatori nautico, aeronautico abbiamo avuto in tutti questi settori comunque almeno un alunno che ha avuto il massimo risultato Mi chiamo Niccolo Golizia sono stato alunno del Carnaro per 5 anni e quest'anno mi sono diplomato io ho scelto inizialmente il Carnaro perché era la scuola che mi avrebbe dato la possibilità di diventare un possibilmente un pilota o comunque mi avrebbe dato degli sbocchi lavorativi in un ambito che mi sarebbe molto piaciuto un domani nel particolare la scuola mi ha dato la possibilità di lavorare a contatto con con quello che era il mondo che io sognavo anche mediante l'alternanza scuola-lavoro noi siamo andati a lavorare a fare l'alternanza scuola-lavoro in aeroporto quindi lavorando a contatto proprio con quello che è il mondo aeronautico Quasi tutti questi ragazzi o frequentano l'università o frequentano dei corsi di formazione post diploma oppure stanno per accedere alle accademie o navali o aeronautiche oppure comunque si stanno inserendo nel mondo del lavoro o nel settore nautico o nel settore aeronautico anche con aziende private quindi diciamo che i nostri alunni non hanno alcuna difficoltà a trovare la loro strada anche dopo aver conseguito il diploma Questo tipo di studi lo consiglierei a chiunque abbia la voglia di metterci in gioco e di lavorare in un ambito io direi molto movimentato quanto un ambito in cui bisogna stare sempre attenti e non ci si ferma mai Ed ora ci spostiamo in provincia perché grazie ad un finanziamento di 742 mila euro nella comune di Fasano sarà realizzata la prima pista ciclabile soddisfatta l'amministrazione Zaccaria Approvato il progetto della prima pista ciclabile del comune di Fasano Abbiamo approvato e finanziato esordisce l'assessore Pagnelli la prima pista ciclabile del territorio un percorso che collegherà il centro di Fasano con la stazione ferroviaria lungo un itinerario misto su strade urbane ed extraurbane Il progetto esecutivo è stato approvato il 21 dicembre e da breve si procederà alla gara d'appalto Sarà la prima pista ciclabile di Fasano e sarà strategica perché arrivando in stazione favorirà il trasporto intermodale treno-bici L'intervento sarà finanziato da fondi regionali in quanto il progetto rientra fra quelli approvati nell'ambito del programma dell'asse 4 azione 4.4 interventi per l'aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e suburbane del Port Puglia-Feser FSE 2014-2020 percorsi ciclabili e ciclopedonali Il comune di Fasano si è classificato all'ottavo posto della graduatoria con 52 punti rispetto ai 43 comuni ammessi e riceverà un finanziamento di 742 mila euro Il progetto ha ricevuto il parere favorevole della soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio ha aggiunto il sindaco Zaccaria Gli interventi consistono in ombra di manutenzione stradale straordinaria e riconfigurazione di sezioni stradali lungo il tragitto La pista sarà riconoscibile mediante specifica segnaletica stradale e saranno inoltre effettuati interventi sulla pubblica illuminazione dove non presente E allora lo sport e la calcio partiamo dalla Serie C perché domani la Virtus Franca Villa avrà un impegno esterno quello in casa della Viterbese ce ne parla Alessandro Zanzico Un ultimo sforzo prima del meritato riposo sebbene sia arrivato il secondo successo interno consecutivo la Virtus Franca Villa è chiamata a non distrarsi troppo perché è già tempo di scendere nuovamente in campo La vittoria messa a segno nel derby con il Bisceglie ha addolcito la classifica dei biancazzurri che restano imbattuti da ben sei giornate Nonostante le svariate assenze gli imperiali sono riusciti a farsi valere e finalmente gli attaccanti stanno tornando a segnare gol pesanti Ad aprire le danze ci hanno pensato Federico Vasquez primo marcatore sia contro il Bisceglie e match winner nella gara contro l'Avellino Nel derby l'argentino ha siglato l'1-0 dagli 11 metri mettendo a segno la propria terza rete stagionale Dopo il penalty realizzato contro la Vibonese il numero 9 si è ripresentato dal dischetto dopo i tre errori consecutivi targati Franco e Perez In sostanza il Franca Villa ha trasformato solo due dei cinque calci di rigore concessi ai biancazzurri in queste prime 16 giornate In entrambi i casi ci ha pensato il Cabezon ad essere freddissimo dal dischetto Altro grande protagonista di giornata è stato Francesco Puntoriere bravo nello sfruttare al meglio le indisponibilità di Ecuban e Perez Il 22enne calabrese già reduce di una grande prestazione in quel di Cava dei Tirreni ha prima conquistato il rigore che ha aperto le marcature e poi trovato il gol del raddoppio con un sublime pallonetto Bravo anche Trocini nel fiutarne il grande stato di forma In conferenza stampa il tecnico Virtussino aveva infatti dichiarato giocheranno Puntoriere e altri 10 elogiando il buon momento dell'attaccante ex Catanzaro Puntoriere, o meglio dire Ciccio così come i compagni lo chiamano nello spogliatoio è tornato al gol 378 giorni dopo quell'8 dicembre 2019 data in cui un suo colpo di testa ha deciso il match contro la Cavesa una grande prestazione macchiata però da uno sfortunato problema muscolare che lo ha costretto al cambio al 21esimo della ripresa un incubo destinato a non finire quello dell'emergenza offensiva bianca-azzurra con Trocini che è in attacco ora solo Vasquez oltre che il giovanissimo Buglia classe 2002 di cui si parla un gran bene i 24 giorni di meritato riposo sono ormai alle porte ma il giallo-blu dell'ex Taurino rappresentano un ostico ultimo ostacolo per quest'anno solare l'intento del Francaville intera laziale allungare la striscia di imbattibilità muovere la classifica portando a casa altri punti e regalarsi un sereno Natale Per quanto riguarda invece la Serie D oggi ci sono le dichiarazioni da parte della tecnico del Brindisi Claudio De Luca dopo la sconfitta contro l'Altamura abbiamo bisogno di tempo perché abbiamo cambiato diversi elementi della rosa ha dichiarato il tecnico bianca-azzurro Mister abbiamo dato tanti attenanti a questa squadra in ultimo ovviamente quello che è successo nelle scorse ore la perdita del caro Roberto Zuccaro sappiamo che l'umore non era dei migliori al di là di questo però ci è sembrato non vedere la reazione dei bianca-azzurri Diciamo che da una settimana che lavoriamo con una squadra un po' rinnovata quindi come ho detto i ragazzi ci tenevano a fare una buona prestazione anche per regalare magari un risultato positivo a Roberto quello che è successo sicuramente ha scosso tutti quanti ieri anche perché Roberto è una persona straordinaria che è entrato nel cuore di tutti di chi sta da poco tempo come me e figuriamoci dei ragazzi che invece stanno da più anni quindi i ragazzi ci tenevano a fare bene sappiamo che dobbiamo lavorare tanto c'è bisogno di tanto lavoro e di un percorso di crescita importante e quindi noi Alibi non ne cerchiamo mai perché noi dobbiamo lavorare soltanto però i ragazzi erano dispiaciuti e comunque hanno dato tutto si è visto fino alla fine della partita che ci abbiamo provato sicuramente ripeto c'è tantissimo da lavorare come se noi in una settimana dobbiamo rifare un po' tutto quanto quindi c'è da rimboccarsi le maniche i ragazzi non si devono scoraggiare è una squadra giovanissima abbiamo iniziato con sei under quindi dobbiamo solo lavorare la crescita di questa squadra passerà anche da queste prestazioni che naturalmente noi cercheremo di migliorare sempre però i ragazzi veramente ci tenevano tanto a regalare una soddisfazione a Roberto penso che Roberto però abbia visto l'impegno che questi ragazzi ci abbiano messo e con questo è tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale ha curato la parte tecnica Alessandro Colavito ora la linea va a Taranto per il nostro approfondimento il fatto grazie per essere stati con noi Grazie a tutti